Nuova Pescara, ovvero un nuovo grande comune che nascerà dalla fusione tra Montesilvano, Spoltore e appunto Pescara. Questo è il piatto forte del Consiglio regionale di oggi, con l'approdo in aula del provvedimento a firma del consigliere del Movimento 5 Stelle Riccardo Mercante. Dopo 17 mesi dalla proclamazione del risultato del referendum che registrò una partecipazione plebiscitaria dei cittadini dei tre comuni e con la vittoria netta del fronte del Sì. Ma a due giorni anche dal no secco del comune di Spoltore, che teme di essere fagocitato nel processo di aggregazione. Difenda spadatratta, come ovvio, il provvedimento mercante. La fusione spiega la vigilia del consiglio porterà taglia alla spesa pubblica dei tre comuni, riduzione di tasse e tributi, risanamento dei bilanci comunali. Nascerà un polo metropolitano capace di competere con le grandi città della dorsiala adriatica. La PDL è stata nei cassetti per parecchi mesi, si è arenata in commissione, forse volutamente, da parte della maggioranza. Oggi arriva in consiglio e ci sarà una resa dei conti. Vedremo se effettivamente questa maggioranza e D'Alfonso rispetteranno quella che è stata la volontà popolare espressa il 25 maggio del 2014. Chiamate la legge mercante Sospiri, tiene a sottolineare il capogruppo di Forza Italia, Lorenzo Sospiri, appunto, che ha ritirato un suo provvedimento molto simile ed è pronto a votare quello del 5 Stelle. Ora, noi riteniamo che per rispondere alle sfide su base europea e nazionale occorra una dimensione metropolitana. Questo è per il master plan, questo è per i fondi per le opere pubbliche. Quindi riteniamo che questo processo sia rivolto al futuro. Ma come la prendono gli esponenti di maggioranza in particolare espressione del territorio aquilano, la nascita di una grande città metropolitana sulla costa? Nessun problema, sottolinea il vicepresidente di Giunta Giovanni Lolli, aquilano e del PD, ma con dei ma che potrebbero anticipare un iter non certo liscio in aula del provvedimento. Non ho mai nessun pregiudizio, meno che meno verso Pescara, che è l'unica città abruzzese veramente non campanilista, nel senso che ai pescaresi proprio veramente non gliene frega niente del campanile. Ora, non avere una metropoli secondo qualcuno può essere un limite, secondo qualche ad un altro, io appartengo a questo qualche ad un altro, invece è una cosa positiva. Non è vero che la metropoli determinano un miglioramento della qualità della vita, noi siamo una regione particolare e io manterrei questa particolarità.